E' ripreso in Commissione Sanità l'iter del Piano Sociosanitario regionale dopo le modifiche recentemente presentate dalla Giunta. In discussione la revisione della rete ospedaliera e gli interventi in materia sociale a favore delle fasce più deboli. E' ripresa la discussione nella Commissione Consigliare Sanità del Piano Sociosanitario, c'è una nuova edizione che è stata presentata dall'assessore competente che introduce anche una parte importante proprio sugli aspetti socio-assistenziali che nel primo piano erano stati un po' trascurati. Questi sono importanti per gli anziani, per i lungodegenti, per i cronici e quindi il piano è senz'altro arricchito di un'esigenza reale. Abbiamo ripreso in questi giorni la discussione del Piano Sociosanitario in Commissione. Finalmente discutiamo concretamente, abbiamo eliminato gli ostacoli, in modo particolare l'assurda idea di separare ospedali e territorio. Ora entriamo nei contenuti, vogliamo rassicurazioni e servizi per tutti i cittadini, in modo particolare per i più deboli, per le persone anziane, per i minori, di modo che la sanità possa garantire felicità e salute per tutti.